La crisi non solo mette in difficoltà con la quarta settimana del mese, ma allunga anche i tempi della spesa. Il portafoglio corto, insomma, fa avere meno fretta e si dilata il tempo trascorso dagli italiani tra gli scaffali di supermercati e negozi a caccia delle offerte migliori. È quanto emerge da un sondaggio col diretti SVG che evidenzia l'inversione di una tendenza. Dopo anni, aumenta il tempo dedicato dalla maggioranza degli italiani, 55%, a fare la spesa quotidiana. Benilla, 72% dei consumatori, dichiara infatti di prestare una maggiore cura e attenzione rispetto al passato, alla composizione del proprio carrello della spesa e al miglior rapporto qualità-prezzo. L'infedeltà al negozio o al supermarket, insomma, premia il prezzo dello stesso pacco di spaghetti, di identica marca, infatti arriva a triplicare da un negozio all'altro, raddoppio nel caso di yogurt e birra, mentre la stessa confezione di latte cresce del 50% da un luogo di vendita all'altro, secondo uno studio sulla dispersione dei prezzi al consumo, promosso dalla stessa col diretti. In altre parole, si può arrivare a dimezzare la spesa senza rinunciare alla qualità o alle proprie preferenze, facendo una scelta oculata dei punti vendita, anche se questo comporta disponibilità di tempo in più e una buona dose di tenacia per fare la spola tra i diversi negozi, evidenzia l'organizzazione agricola. D'altra parte, in Italia, la tavola è una componente importante della spesa familiare, a cui nel 2010 è stato dedicato un budget di 467 euro al mese a famiglia, pari al 19%. Per questo, in tempo di crisi, aumenta la necessità di fare acquisti più convenienti. A destare attenzione, secondo la Colliretti, non è solo la necessità di risparmiare, ma anche la preoccupazione per la riduzione della qualità dei cibi messi in vendita dalle imprese, tentate dal contenimento dei costi nelle materie prime utilizzate. Non a caso, infatti, solo il 16% degli italiani dichiara di aver ridotto la spesa alimentare. La consapevolezza dell'importanza della tavola è evidente se confrontata alla riduzione che ha colpito altri beni di consumo, come l'abbigliamento, le vacanze o i prodotti tecnologici.